Tragico incidente mortale questa mattina intorno alle 8 circa sulla strada statale 131 all'altezza di Monte d'Accoddi a perdere la vita un 36enne di Sorso a bordo di una Peugeot 206 mentre si stava dirigendo a lavoro. Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente sul guardrail che si è letteralmente infilato all'interno dell'abitacolo senza lasciare scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Fatale incidente assorso in un casolare di campagna. Secondo la ricostruzione una donna di 65 anni mentre si accingeva ad uscire dalla sua proprietà a bordo della sua auto sarebbe scesa per aprire il cancello probabilmente dimenticando di inserire il freno a mano nel veicolo. Successivamente è stata brutalmente schiacciata contro il cancello dalla sua macchina fuori controllo. Impatto che le è stato fatale e a nulla è servito l'intervento degli operatori del 118 con la donna che è stata ritrovata già priva di vita. I carabinieri della stazione di Olbia Centro hanno deferito in stato di libertà un'operaia cagliaritana incensurata residente ad Olbia poiché identificata quale autriccia del furto di vari gioielli di proprietà della denunciante per un valore complessivo di circa 20.000 euro. La donna collaboratrice domestica della vittima ha sottratto i preziosi in un arco temporale piuttosto lungo orientativamente dall'agosto scorso fino a qualche giorno fa quando la proprietaria si è avveduta della manco. La dipendente infedele si è premurata in questo lungo lasso di tempo di vendere la refurtiva ad un compro oro della città da cui è stato possibile recuperare parte dei gioielli ancora non mandati in fusione, restituiti poi alla legittima proprietaria. Gli investigatori con una stratagemma hanno portato la ladra a confessare il furto, dettato a suo dire da ragioni di necessità per alcuni debiti accumulati. Il monitoraggio dei compro oro, su cui dal 2018 vigono vincoli più restrittivi, ha consentito di reperire le prove mancanti e di recuperare la refurtiva in forza del decreto legislativo 92-2017 che mira ad arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali connesse. Gli operatori devono essere registrati a tenersi ad alcuni obblighi di legge piuttosto restrittivi, in particolare sulla tracciabilità del denaro e sull'identificazione della clientela, registrando anche una descrizione sulle caratteristiche del prezioso, natura e qualità, con almeno due fotografie in formato digitale del singolo oggetto. Va indicata inoltre la data e l'ora dell'operazione. Questi dati hanno consentito di ricostruire inequivocabilmente la condotta criminosa della badante. Si è svolto a Stintino con la nuova edizione di Dialogando, il convegno che ha messo a confronto esperti di cooperazione, docenti universitari ed esponenti religiosi. Un incontro, quello presso il Museo della Tonnara, che ha rappresentato una vera e propria occasione di apertura tra i popoli. Il convegno si è concentrato sulla religione, il dialogo interculturale e interreligioso e sul ruolo della donna. Tanti gli argomenti trattati, come la diplomazia, il pacekeeping, le reti di supporto e le vittime di tratta. A dare il via al convegno è stato il prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, seguita da Anna Paolini, direttore UNESCO a Doha, dall'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, dall'arcivescovo di Damasco, Jihad Ntanos Batà, e a Malam Masri, componente del forum libanese delle donne. Amici di TeleG, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Come vedete già si respira il clima natalizio ormai, siamo in dicembre. Oggi per la nostra puntata della rubrica TeleG in radio abbiamo due ospiti molto particolari. Parleremo di cultura e sviluppo locale e i signori che sono vicino a me sono il signor Mario Massimo Profili e Massimo Canu, loro sono presidente e vicepresidente dell'associazione Domo Sardinia Russia. E già da questo nome riusciamo a capire di bene o male di che cosa si tratta. C'è in ballo un bel progetto del quale adesso il presidente ci parlerà ora. Innanzitutto che tipo di progetto è, come nasce, da cosa vi è venuta questa idea? Dunque, buongiorno a tutti. Il progetto nasce da un'idea, un'intuizione e una passione. Una passione nata in periodo universitario, quindi durante lo studio della lingua russa, e una passione nata per la cultura, per la storia, le tradizioni di quel paese. Diciamo che, basandomi sui dati di poco tempo fa, diciamo che in Sardegna sono venuti molti turisti dalla Russia, ma addirittura stiamo parlando di 156 mila presenze nel 2018. Purtroppo di queste presenze nella nostra bellissima città non sono arrivate. Non più di tanto. Non più di tanto, esattamente. Quindi nasce il sviluppo locale appunto per collegare la cultura con una passione per il nostro territorio e cercare di portare questi turisti, queste ottime persone con i quali ho allacciato dei rapporti e ho avuto il piacere di conoscere, di frequentare, di condividere il nostro bellissimo territorio con queste persone, dando un incentivo allo sviluppo, all'imprenditoria, alla ristorazione, al commercio. Le potenzialità sono molte. Hai detto prima tu, è un progetto che con molta passione, con tempo rubato al lavoro, stiamo cercando di portare avanti. Speriamo che vada tutto come noi abbiamo preventivato. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che questa associazione è un'associazione no profit e che quindi tutte queste cose vengono fatte assolutamente in perfetta assenza di ritorni economici. Esattamente. Nello specifico, Massimo, questo progetto quindi che cosa prevede? Nasce come conoscenza delle reciproche peculiarità, perciò nasce anche come iniziale studio inizialmente proprio delle lingue, tant'è vero che porteremo uno dei primi progetti appunto è stato appena nato in poche parole ed è un'alfabetizzazione della lingua russa. Perciò un aiuto per operatori del settore sassaresi del nord Sardegna in ogni caso. Per quanto riguarda l'alfabetizzazione della lingua russa non si può comprendere un popolo se non si capiscono le lingue. La stessa cosa accadrà per i nostri, perché questo è un fiore all'occhiello, ci sono già cento partecipanti alla nostra associazione di nazionalità russa che abitano a San Pietro Busurgo, a Mosca e loro vogliono acquisire la lingua italiana. Ricordiamoci che la terza lingua parlata dai russi è l'italiano. Questo ci fa capire l'appeal del... Grazie a Totto Cuttugno con i suoi concetti. Ah, probabilmente. Albano e Romina. Albano e Romina. Beh, e ricordiamolo ultimamente anche il grande successo ottenuto da Pino e gli Anticordi nella vittoria appunto al festival di Rammosca. È molto recente. E' anche più interessante forse. Ci fa solo piacere. Esatto, esatto. Perciò conoscere la lingua, perciò gli operatori e non tutte le persone che vogliono avvicinarsi a quello che è la lingua russa e la Russia in genere, possono contattarci. Ecco. E noi garantiamo un iniziale corso di 30 ore ad un prezzo, voglio dire, simbolico. Sì, è assolutamente simbolico. Dobbiamo pagare, giusto, le spese. Esatto. Tenuto da insegnante madrilingua già in ambito universitario e collabora già in ambito universitario, quindi ci teniamo a dire una cosa qualificata. Mi aggiungo solo una cosa, è il primo di alcuni step che noi faremo come corso di russo. Gli ultimi step saranno appunto di un, non per leggere Tolstoi o altri autori, ma proprio per avere una padronanza del russo commerciale. Quindi mi collego a quello che ha detto Massimo prima, cioè riservato agli operatori del settore, della ristorazione, dell'imprenditoria, quindi sempre tenuti chiaramente da docenti di madrilingua. Quindi anche con un ritorno economico sul piano del territorio. Certo, ma tutti gli operatori commerciali e non, anche chi dà consulenze, io parlo della mia professione, io faccio l'avvocato, ma anche il commercialista che vuole avere un rapporto con i russi deve iniziare prima di tutto a alfabetizzare la propria padronanza linguistica e poi avere un, come ha detto appunto Mario Massimo, una conoscenza business. Questo è il target che abbiamo, hai detto prima tu, il fatto che è un'associazione che non ha scopo di lucro, tutti noi lavoriamo e per questa passione stiamo sacrificando sul lavoro, io lavoro in banca, al Banco di Sardegna, e quindi sacrifichiamo tempo al lavoro, alla famiglia, agli altri hobby. Nasce come passione e come tale la stiamo sviluppando. Non c'è un ritorno economico, ma il ritorno economico non è per noi, ma per il territorio. Infatti il sviluppo locale è per quello, perché ci teniamo che questo incremento turistico di quel particolare settore della terra, cioè la Russia, sia sviluppato. Fra parentesi, io ho contatti con associazioni, tale Olga Petucova, che ha un'associazione Italia-Russia a Mosca, mi ha detto che sardi e russi sono molto uguali, ha detto lei, quindi anche questa cosa è sentita. Un'altra parentesi, domo è perché casa, in russo si dice dom, quindi è un gioco di parole, domo, domo in sardo e dom in russo, quindi è voluta domo, sardinia, russia, per le affinità e per i legami anche linguistici. C'è da dire una cosa, peraltro, una cosa che nasce scherzando, come uno scherzo, un sogno può diventare realtà. Stavamo parlando con degli operatori del settore, stavamo esponendo il nostro progetto e già i primi operatori del settore ci hanno chiesto del personale in Russia per quanto riguarda le transazioni. E noi li abbiamo già aiutati, naturalmente gratuitamente, noi abbiamo i nostri associati russi a Mosca, a San Pietroburgo, che daranno per la prima volta una mano agli operatori sassaresi per l'import-export dei nostri prodotti in Russia. È una cosa fondamentale, è una cosa bellissima, nata da un progetto, è nata da un sogno. È bello, dai sogni, ripeto, sicuramente la situazione è di una valenza estrema, è davvero molto importante, anche perché mi rincresce ciò che ha detto Mario Massimo all'inizio, e cioè che su tot presenze 156.000, 0 e sassari, molto pochi, insomma iniziamo a farla conoscere, ma soprattutto iniziamo anche a far conoscere a quei sassaresi, e non, perché no, che possono anche attingere all'alfabetizzazione del russo, per poter poi prendere dei contatti che possono tornare sicuramente utili per la propria attività, per il proprio lavoro. Giusto per informazione, è presente una pagina Facebook, stiamo attivando il sito web, che ancora non è operativo. Mettiamo in evidenza dove potete essere appunto rintracciati per magari qualcuno che ovviamente come auspico e come ci auguriamo tutti, vi voglia contattare. Esatto, allora la pagina Facebook, quindi anche tramite Facebook è possibile contattarci. Abbiamo la mail che è domosardiniarussia.gmail.com Domosardiniarussia tutto attaccato, tutto minuscolo, chiocciolagmail.com quindi è possibile mandarci una mail, lasciateci il recapito, noi vi contatteremo. Il corso di russo si terrà presso il liceo Azzuni, grazie alla disponibilità e alla bontà, a questo punto devo dire, del dirigente, il dottor Roberto Cesaraccio, che ci ha dato la disponibilità di locali. Appunto quindi il corso si terrà al liceo Azzuni, presso le aule del liceo Azzuni. inizierà verosimilmente i primi di gennaio, quindi noi stiamo lavorando per raccogliere le iscrizioni, siamo assolutamente nei tempi previsti, quindi chi volesse, chi fosse interessato, ribadisco è un prezzo assolutamente popolare, simbolico quasi, questo chiaramente per i primi che aderiranno, poi i docenti hanno la loro parte, quindi dovranno essere remunerati logicamente, questo lo facciamo prima noi dell'associazione e dopodiché ci sarà la quota associativa. Un'apertura agli operatori effettivi del settore. Quindi ripeto, la mail l'abbiamo già detta. C'è da dire una cosa molto importante, è anche quella che parteciperanno anche gli insegnanti, i professori del liceo Azzuni, perciò in un'ottica appunto di cultura che si espande, avere dei professori di un liceo importante come quello che abbiamo noi, il nostro fiore all'occhiello, che iniziano a parlare russo e che insegnano i loro alunni già qualche piccolo, perché poi mentre si parla una lingua non si parla solo l'alfabeto, il nostro professore ci ha già iniziato a raccontare degli anedoti, un cercare di acquisire anche la cultura, è una cosa fondamentale, cioè i professori che acquisiscono una base della cultura e iniziano a tramandarla già ai loro alunni. È bello, speriamo che faccia parte del sogno. Bene, io sono molto contento di questa iniziativa, perché la reputo sicuramente è un'iniziativa molto interessante e importante proprio anche dal punto di vista dello sviluppo nel nostro tessuto economico. Naturalmente ci sarà un corso, questo non l'avete detto, un cocktail di benvenuto a base di vodka, sicuramente. Il caviale beluga. Mi sembra al minimo indispensabile. Niente, vi faccio i nostri migliori auguri per questa nuova avventura. A voi, in chiusura, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, 26 11 50 se volete raggiungerci telefonicamente, info.telegi.tv, se invece volete farlo attraverso una mail, è nel nostro sito www.telegi.tv andrete a trovare tutti quelli che sono gli archivi dei nostri telegiornali. Non dimenticate, su Libera TV, 115 del suo canale, il nostro telegiornale in onda 24 ore su 24 a rotazione. È proprio tutto, grazie a noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie allo sport. Nonostante l'assenza di coach Pozzeco, fermato dall'influenza, la Dinamo Sassari, guidata da Edoardo Casalone, batte per 76-70 la Germani Basket Brescia di Enzo Esposito, predecessore di Pozzeco sulla panchina rosso-blu e si porta così al secondo posto in classifica in coabitazione con Brindisi e Milano. I bianco-blu torneranno in campo già domani contro Manresa nell'ultima partita del girone d'andata di Champions League. In campionato, invece, i ragazzi di coach Pozzeco domenica affronteranno un vero e proprio big match al pala pentassuglia l'epicasa Brindisi. Nel match di ieri contro Brescia, dopo un sostanziale equilibrio nei primi dieci minuti, sono proprio gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco e si portano sul 32-22. La Dinamo prova a riportarsi a contatto, ma Brescia mantiene l'inerzia del match e la quinta trova il più 8 sul 34-42. Da questo momento, però, Evans e compagni trovano con maggior continuità il fondo della retina e anche grazie a un'ottima difesa a cavallo tra secondo e terzo quarto la Dinamo realizza un parziale di 22-0 che porta il rosso-blu sul più 14. Brescia prova a reagire portandosi sul meno 4 grazie alla tripla dell'ex di turno Brian Sacchetti, ma Gentile e Gerrels ridanno fiato ai padroni di casa che ottengono così il settimo successo stagionale. Continua però il momento negativo di Jamel McLink che nonostante i 18 minuti concessi da Casalone mette a referto solo un punto risultando di gran lunga il peggiore dei suoi. Questa settimana può essere quella decisiva per il suo futuro perché proprio da oggi l'ex giocatore di Milano può esercitare la clausola che gli permette di accasarsi in un club di Eurolega. La famiglia Bersano e Nuvoli in collaborazione con ASD Sacro Cuore organizzano Memorial Tore Bersano e Salvatore Nuvoli dal 9 al 14 dicembre. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari puoi anche iscriverci alla mail itangioiss.com Ti aspettiamo Datti un'altra opportunità TG informazione ed approfondimento Orari di MS in onda dalle 13 alle 15 e 30 dalle 19 alle 20 e 45 Ultima edizione dalle 23 e 30 e non da 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera Attivazione Grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.